Giunge ad un epilogo la triste vicenda che ha riguardato l'ingegnere di 32 anni che il 29 marzo 2023 fermo ad un distributore a fare rifornimento in viareggia di Portici con il suo scooter venne raggiunto da due individui che pistola alla mano tentarono di rubargli il mezzo a due ruote. L'ingegnere oppose resistenze e venne ferito alle gambe da colpi di pistola, lottando per alcuni giorni tra vita e morte. A distanza di quasi un anno dalla triste vicenda, i carabinieri e la Polizia di Stato hanno arrestato anche il secondo rapinatore. Il primo, un 17enne, venne preso a settembre 2023. Questa mattina carabinieri e Polizia di Stato, su delega della Procura di Napoli, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di un ventennio originario del quartiere di Ponticelli, accusato di tentato omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma da fuoco e luogo pubblico in ricettazione. Fatti avvenuti la sera del 29 maggio 2023 in via reggia di Portici a Napoli. Grazie a tutti.